E' stato ritrovato questa mattina Davide Iacucci, il 19enne fanese, studente di filosofia, che lunedì 3 dicembre, poco dopo le 15, dopo aver pranzato con i genitori, si era allontanato da casa facendo perdere però le sue tracce. Alle 7.30 di questa mattina è stato localizzato e raggiunto dai genitori a Verbania. Davide stava girovagando per le vie della cittadina piemontese, sulle rive del Lago Maggiore, sostanzialmente in buona salute. I genitori sono riusciti a trovarlo grazie al supporto e alle indicazioni delle forze di polizia che si erano messe sulle sue tracce, dopo che lunedì sera gli stessi genitori, non vedendolo rincasare, avevano denunciato ai carabinieri della compagnia di Fano il suo allontanamento, preoccupati però per la sua incolumità, non avendo il giovane dato nessuna indicazione a riguardo e lasciato stranamente il suo telefono cellulare in casa. L'annuncio della sua scomparsa è stato anche dato nella trasmissione di Rai Trecchi, l'ha visto che si occupa di persone scomparse che ha diramato il suo identikit con una richiesta di aiuto e subito è partito il tamtam mediatico anche tra i suoi coetani ed amici fanesi. Davide è stato visto prendere un bus in direzione Pesero, da dove probabilmente ha preso un treno per Bologna, dove gli investigatori hanno avuto tracce del suo passaggio. Dopo diverse ore di apprensione da parte di familiari e conoscenti, finalmente, trasmettite conferme, è arrivata questa mattina dalle forze di polizia l'annuncio del suo ritrovamento e che il giovane si trovava già in compagnia dei genitori. Notizia che c'era stata annunciata anche dai suoi nonni, che vivono nel quartiere della Trave e che erano in contatto con la madre.